Sarà il duo formato dal compositore Accursio Cortese al pianoforte Michele Bruno alla Fisa Armonica ad aprire domani sera la rassegna denominata Abbiamo un piano e non solo, variazioni d'autore in sei concerti. Sei concerti per una rassegna invernale che nasce ancora una volta grazie ad una felice intuizione di Sino Caracappa e dello staff dello Sciacca Film Fest che hanno deciso di dotare i luoghi della Badia Grande di un pianoforte attorno al quale radunare sei diversi pianisti alcuni accompagnati da altri strumenti o voci per altrettanti spettacoli. Sicuramente l'intento di Sino Caracappa che ringrazio anticipatamente per avermi scelto per aprire questa rassegna che parte quest'anno è sicuramente quello di sfruttare, positivamente parlando, questo strumento che si trova appunto alla Badia Grande. La rassegna in realtà è che abbiamo un piano e non solo e infatti noi saremo, non solo che ha un doppio significato non solo nel senso che non sarò solo, infatti sarò con Michele Bruno alla Fisa Armonica e non solo perché comunque questo pianoforte sicuramente si presterà ad organici anche più ampi in futuro. e quindi abbiamo pensato insomma, quando Sino mi ha proposto di far parte di questa rassegna abbiamo pensato con Michele appunto di fare un progetto che in un certo senso mettesse assieme diverse tipologie di musica poi trattati sempre alla nostra maniera, diciamo non riproposti in maniera ortodossa in un certo senso ma così scomposti, ricomposti per cercare di dare il nostro segno anche perché sarà una deformazione professionale ma io facendo compositore non riesco proprio a riprodurre le cose per come sono, devo sempre metterci del mio insomma. Omage, così si chiama il concerto di domani sera che vedrà il duo formato da Cursio Cortese e Michele Bruno ripercorrere una variegata serie di successi in ambito pop, soul, classico e jazz rivisitati e proposti in modo singolare. Come recita il titolo, lo spettacolo nasce con l'obiettivo di omaggiare diversi artisti che hanno lasciato il segno da Luigi Tenco a Mozart, da Morricone ai Beatles da Pino Daniele a Michael Jackson reinventando la loro musica. Il titolo in francese semplicemente perché suonava meglio rispetto a omaggi mi piaceva di più, quindi non c'è una motivazione diciamo nazionalistica semplicemente perché appunto mi piaceva come suonasse il titolo e poi appunto perché di fatto sarà un vero e proprio omaggio a diversi autori che diciamo anche trasversalmente si intersecano perché avremmo Sting, Mozart, i Beatles, Morricone cioè di per sé sono mondi assolutamente lontani ma che in realtà possono benissimo convivere e stare assieme e noi quantomeno ci proveremo a farli convivere poi mi auguro che così sarà. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per sei serate a partire da domani di grande livello artistico. Ascoltare diversi stili, diversi generi musicali in un unico contenitore e con un duo inedito non è proprio roba di tutti i giorni quindi questo potrebbe essere anche un aspetto una curiosità che potrebbe spingere e mi auguro che possa spingere la gente a venire. Abbiamo un piano e non solo proseguirà il 24 novembre con Calogero Lupo il 2 dicembre sarà la volta di Paolo Scanabissi il 7 dicembre Alexandrei Gabrilisoff il 15 dicembre Ines Tutto lo Mondo e i solisti di Canto e Canto Jazz chiuderà la rassegna il 22 dicembre Alessandra Curreri.